Benvenuti a tutti a un nuovo appuntamento con l'Ariatto, destinazione Puro Resu, io sono Stefano, uno degli ideatori di questo programma e uno dei conduttori di questo programma. Al mio fianco oggi, per parlare di Five Star, quindi del torneo più importante della Stardom, c'è il nostro Miki. Ciao Miki, ben ritrovato. Ciao, grazie mille. Allora, siamo partiti forte e piano, nel senso, siamo partiti forte con il fatto che adesso Stardom lavora molto sui live trasmessi con Stardom World, quindi c'erano tantissimi giorni a disposizione da vedere. Siamo partiti lentamente perché il primo giorno era in pay-per-view, quindi ci sono volute un po' di ore, qualche giorno, prima di averlo a disposizione. Dato che l'abbiamo aspettato, giustamente, e data la concomitanza con altri eventi sportivi, come per esempio il Climax, che ho seguito, e se non avete ancora guardato potete guardare anche un po' di considerazioni fatte sulle fasi finali qui sul canale, e chiaramente siamo andati un pelino a rilento, quindi oggi siamo qua per raccontare un po' l'inizio del Five Star, cioè la giornata 1, che era in pay-per-view, e la giornata 2, invece, che era già disponibile da prima, ma che noi abbiamo potuto vedere dopo. Questo ragionamento, ovviamente, è un ragionamento che abbiamo fatto di partire, perché in effetti questo torneo noi lo seguiremo male, per cui almeno la partenza, le prime giornate, abbiamo cercato di portarvele prima possibile per quanto sono i nostri ritmi attuali, e abbiamo cercato di farlo nel modo che conosciamo più da vicino, cioè quello di guardare e poi venire a fare le considerazioni. Questo perché? Perché poi tra un paio di giorni si parte, si va a Londra, non solo per andare a vedere Olin, ma per andare a vedere altri due eventi, con dentro anche dei giapponesi, ovviamente, perché in progress vedremo Kenta, e per quanto riguarda la Eve, avremo una giornata in comune con la Tokyo Joshi, quindi chiaramente vedremo le ragazze della Tokyo Joshi, e Aja Kong, quindi sono ben felice di vederla in questo contesto. Ovviamente ci sono tre giorni in cui due viaggiamo, il giorno in cui partiamo e il giorno in cui torniamo, e non vediamo niente lì. C'è un giorno libero, andiamo a vedere le cose che ci interessano, no? I fumetti, il giocattolo, le cose che piacciono a noi ragazzi. Io devo fare la foto davanti a Scotland Yard, cioè non mi frega un cazzo me del resto, cioè. Quindi vado a Londra per quelle robe lì. Tutto sommato, questo che è un po' il riassunto della questione è questo, io vado a Londra per andare a vedere le robe che mi interessano. Però rimarremo indietro, e siamo già certi di rimanere parecchio indietro, perché anche guardando tanto, cosa che non è possibile, perché negli ultimi giorni prima di partire il tempo è poco, anche guardando tanto non riusciremmo a essere in pari con niente. Per cui cominciamo a fare qualcosa, quello che riusciamo da qui a giovedì, ben volentieri. Quello che non riusciamo da qui a giovedì, pace al cazzo, cioè non è che dobbiamo stare a fare chissà che cosa. Si fa quel che si può. A volte quel che si può è bello, a volte quel che si può bisogna accontentarsi. Oggi però, i primi due giorni li andiamo, insomma, a sviscerare un pochino, partendo ovviamente dai risultati, Michi se vuoi agevolare la grafica, della prima metà del primo giorno. Primo giorno che ha visto in scena 12 match e come potete vedere c'è stato intanto il debutto di Anna Jay con vittoria a sorpresa, o forse no, su Saoriano. Poi c'è stato un match in cui Konami ha battuto Ruaka, quindi un match casalingo per le ragazze di Hate. Mio Amazaki che ha battuto Xina. Rana Yagami che ha battuto Saki Kashima. Anche qua un match casalingo, un derby, con Saki Kashima che poi racconteremo un attimo, ci soffermeremo. Susu e Anan hanno fatto un pareggio molto bello, francamente un po' inaspettato, e poi Yasuki che ha battuto una delle ospiti, cioè Manami, che arriva direttamente dalle ultime collaborazioni, diciamo, che ha avuto la stardom intorno alla White Belt, che sapete è stata per qualche giorno lasciata da Saoriano. E quindi, giustamente, essendo di un'altra promotion, per non fare una cosa one shot, one kill, si è fatto uno show qua, si è fatto uno show là, e poi si è anche chiamata Manami a lavorare con Stardom. Che cosa tiriamo fuori da questi primi sei match? Beh, chiaramente il fatto che Anna Jay abbia fatto il suo debutto e abbia vinto, Miki, un po' è a sorpresa, ma un po' no. Quale percentuale dai alla sorpresa e quale? Perché, ovviamente, cos'è che può togliere la percentuale al fatto che, vabbè, un ospite vince? Il fatto che dall'altra parte c'è Saoriano. Però, Miki, come gestisci queste cose? Esatto, l'unico problema potrebbe essere il fatto di avere Saoriano dall'altra parte, però mentre lo stavamo guardando, in realtà per come lo hanno gestito, anche il fatto di averlo messo su YouTube, nel pre-show, quindi, tra tutto per tutti, così anche, magari, qualcuno, qualche fan della loro elite che non conosce la Stardom vuole un attimo vedere come funziona il tutto, può guardarselo tranquillamente su YouTube. Quindi, era un modo per attirare della gente, giustamente. E quindi, era abbastanza prevedibile, direi un 80% contro un 20% sulla vittoria di Saoriano, che poteva essere quel dubbio, visto comunque il percorso che ha fatto, il fatto che fino a poco tempo fa era campionessa, è stata due volte campionessa, se vogliamo, con la white belt. Quindi, era comunque un avversario difficile, e secondo me hanno fatto bene anche a mettere subito lei, nel primo giorno contro Anna Jay, perché comunque era una di quelle che poteva effettivamente spingere un po' di più, e anche se uno va a vedere, magari il palmareste e i soli hanno, diciamo, Anna Jay ha battuto una abbastanza forte, abbastanza importante. Quindi, si vanno sfruttato un po' tutto al meglio. Comunque l'incontro non è venuto male, per quello che effettivamente si poteva fare in un pre-show. Era il primo match di Anna Jay in Giappone, quindi doveva ancora prendere un po' i ritmi, un po' le cose. ci vuole del tempo, però pian piano poi le farà bene questo tour in Stardom, sicuramente. Credo che l'abbiano messa anche con un'avversaria, come prima avversaria, qualcuno è in grado di approcciarsi anche, dato la natura del suo stato contrattuale per molto tempo, di freelancer, in grado di rapportarsi subito bene un po' con chiunque. Perché un freelancer, ovviamente oggi, combatte con Tizio in questa promotion, la volta dopo è in un'altra promotion e non può rincontrare quel tizio o magari chi è allenato insieme a quel tizio, quindi con un certo mood e un certo tipo di mosse. Quindi Soriano forse era anche una delle più adatte ad accettare come stile qualcuna che in Giappone non c'era praticamente mai stata, se non magari come turista. Parliamo invece di quelli che non sono i match, diciamo, derby, e vediamo Mio Amazaki che batte Xina. Anche qua Xina, parliamoci chiaro, è una lottatrice che a qualche punto lo fa, però non c'è assolutamente modo di vederla arrivare più avanti. Dal mio punto di vista, Miki, nemmeno Mio Amazaki, qua praticamente era un 50-50, il trucco era che potenzialmente potevi farle pareggiare al massimo per un double count out, non di più, non di meno. Miki? Sì, hanno sbottato un po' la cosa di Mio Amazaki che è molto rapida anche nel fare i roll up, nel chiudere l'avversaria. è giusto così, va bene così, poteva effettivamente passare Xina e con le chop distruggere Mio Amazaki e passare lei questo turno, cioè passare il turno, prendersi questi due punti, cambia poco da una parte o dall'altra. Tanto sono due che, sì, qualcosa vincono, qualcosa perdono, ma sono più o meno da metà classifica, non penso, andranno molto più avanti, ma perché non hanno ancora l'importanza giusta per arrivare avanti dal mio punto di vista. E non sono neanche quei nomi che puoi dire, guarda, se quasi quasi mi scappo fuori, tipo Anan, quando ha vinto il Cinderella, tu potevi aspettarti che Anan facesse qualcosa, soprattutto in quel tipo di torneo, che avesse l'espluat. L'espluat ce l'ha avuto effettivamente, quando i Mio Amazaki in Xina possono avere quel tipo di espluat. Parliamoci chiaro. Ma ho citato Anan e ho citato anche pareggi per Double Countout, ed è proprio il caso del match tra Susu e Anan. Match che ovviamente, per quanto mi riguarda, era abbastanza atteso, perché se non sbaglio era o il primo o uno dei primi match di Susu al rientro dal periodo di stop di infortuni che ha avuto, quindi logicamente ero curioso di vedere lo stato di forma pessimo, in realtà, della Suzuki, che non lottando ha subito messo su peso e l'ho vista un po', così, un po' in difficoltà, cosa che può fare tranquillamente di mettere su peso dal mio punto di vista, cioè io sono l'ultima persona che può dire a qualcuno che deve essere o rimanere magro. Però il discorso è proprio del tipo di lottatrice che è, del tipo di incontri che fa, portandosi dietro del peso in più, chiaramente, rende un po' più difficile la calibratura di quello che deve fare. In questo caso, in realtà, credo che siano andati un po' in protezione di una di quelle che farà tanto Anand nel futuro e una di quelle che, visto che l'anno scorso l'ha vinto il torneo, non poteva proprio perdere subito contro Anand. Hanno buttato in piedi questo match, l'hanno fatto finire in questo tipo di pareggio, potrebbe anche essere il preludio a qualcos'altro, no? in futuro, visto che, visto la giovanità di entrambe e visto il fatto che magari questa potrebbe essere l'inizio di una faida senza titoli in mezzo, ma comunque molto interessante. Cosa ne pensi tu? Sì, allora, non sapevo bene cosa aspettarmi, nel senso che siccome hanno giocato un po' sul fatto che appunto una ha vinto il Cinderella, una ha vinto il Five Star e quindi era difficile far passare una o l'altra, mi ha fatto strano vedere il pareggio più che altro perché appunto Anan l'abbiamo vista crescere molto nell'ultimo anno, ha fatto parecchie cose, ha lottato anche molto, Suso invece per infortuna è rimasto indietro, quindi vedere la pareggiare contro Anan che è abbastanza lanciata mi ha fatto strano, è ovvio che è un nome comunque sempre importante quello di Suso, quindi anche se non è in perfetta forma, se non è magari al 100% perché deve riprendere un po' il ritmo, va bene anche il pareggio come primo match, poi c'è da vedere un attimo cosa farà nel torneo anche se appunto visto che l'ha vinto già l'anno scorso non penso riuscire effettivamente ad andare così avanti dal mio punto di vista. Probabile. Asuki invece che batte Manami rappresenta un po' quello che probabilmente sarà il Five Star di entrambe, cioè con Asuki che verosimilmente dovrà lanciarsi un po' in questo Five Star arrivare un po' avanti mentre Manami dovrà fare più che altro quella di rottura cioè quella che a un certo punto va a fermare per qualche ragione l'ascesa di qualcuno e quindi sarebbe l'ideale trovare il modo di capire quali saranno le persone fermate cioè le vittorie di Manami verosimilmente saranno quelle un po' da per fare il tappo rispetto al futuro come ti è sembrato questo match e la situazione in generale? Buono come incontro però niente di così eccezionale nel senso che Asuki ha fatto il suo Manami deve un attimo magari orientarsi perché è sempre lottato in Sendai quindi è un mondo completamente diverso anche come tipo di gestione deve un attimo ambientarsi sia comunque un personaggio che può far molto bene perché ha un tipo di gimmick che si lega molto anche al pubblico ha alcune taunt che possono essere piuttosto utili anche per farsi voler bene dal pubblico quindi anche farsi vedere un po' in stardom non le fa male mentre invece per i due match casalinghi diciamo dei derby Konami che batte Ruaka va benissimo mentre invece Rana Yagami che batte Saki Kashima è dal mio punto di vista invece il contrario di ciò che accade per Asuki e Manami mi sono immaginato immediatamente una Saki Kashima che perde contro Rana e una Saki Kashima che è capace di andarti a vincere non dico tutti gli altri ma potrebbe fare un po' di strada da qui alla fine del torneo perché comunque è un personaggio che funziona anche col pubblico che ha questa capacità di schienare in un secondo l'avversaria non lo so non la vedo nemmeno così lontana dalla realtà come un classico inizi un po' male per poi andare sempre meglio tu cosa ne pensi? Saki è una di quelle che ti può fare la sorpresa con un pin lampo come in realtà molte volte ha fatto molte volte ha vinto anche dei titoli in quel modo quindi ormai l'abbiamo imparato a conoscere anche ad apprezzare se voi ascoltate i primi lariatti in cui parlavamo di Stardom c'è questa divisione completa dalla Saki Kashima dell'epoca a questa qua si è presentata con un cartello e per tutto il tempo mi ha avuto in mano quel cartello e va bene abbiamo anche fatto quasi 300 puntate cioè al di là del fatto che poi c'è gente che non conosce il nostro progetto ci mancherebbe altro quindi magari si illude di poter arrivare e sentirsi più avanti di noi e comunque sono tanti anni che siamo qua quindi essendo tanti anni abbiamo avuto modo anche di cambiare idea nel bene per qualcuno e nel male per qualcun altro direi di passare però Michi al prossimo al prossimo pezzo del day one il prossimo pezzo del day one dice chiaramente che c'è stato un primo pareggio e uno scontro molto interessante tecnicamente anche per il futuro dove Tomo Kainaba e Mei Sera sono arrivati al tempo limite in uno di quelli che probabilmente si attesta tra i primi due o tre match della serata chiaramente anche qua grandi aspettative per Tomo Kainaba sicuramente c'è l'aspettativa per Mei Sera Mei Sera che è anche campionessa high speed non può dal mio punto di vista perdere così tanti quindi se non può perdere così tanti soprattutto per lottatrici che a livello di dimensione fisica potrebbero anche andare a rompere le palle dal punto di vista del suo titolo probabilmente una collezione di pareggi potrebbe arrivare per Mei Sera qualche vittoria e un po' di pareggi come ti è sembrato questo match? l'incontro mi è piaciuto a parte che sono fan sia di una che dell'altra quindi era un po' il mio incontro e sono curioso di capire un po' cosa farà Lainaba all'interno del torneo perché è molto valida lei come lottatrice in realtà e l'abbiamo vista un po' in stardom ma non ha mai fatto qualcosa di effettivamente così importante è sempre molto legata alla just about vediamo se magari con questo torneo inizia a staccarsi un po' dal mondo di Takamichi No e inizia a mettere piedi magari in quello effettivamente della stardom però mi immagino un torneo piuttosto buono per lei perché comunque anche il fatto di averla mandata contro Maika è un nome che potrebbe essere interessante non magari da vittoria del torneo o qualche vittoria durante il percorso che magari la porta in una zona piuttosto alta della classifica ce la vedo per lei dall'altra parte mei sera si farà un po' fatica all'interno del torneo proprio come detto te non perché perderà molti incontri ma perché c'è il rischio che vada sul pareggio anche per tipo di incontro che normalmente fa lei dunque abbiamo visto che se vuole fare i match belli deve andare un po' lunga con i tempi se gli mettono i match corti abbiamo visto che molte volte non è così interessante come tipo di incontro quindi probabilmente la gestiranno in modo con pareggi e qualche vittoria quella come dicevi te assolutamente sì per quanto riguarda invece il match successivo con Shuri che batte Starlight Kid io vado anche qua come prima cioè Starlight Kid dal mio punto di vista arriva abbastanza avanti a questo a questo giro c'è anche qualche possibilità di vittoria e io mi sbilancio e dico che per quanto mi riguarda a sensazione il torneo lo vince Hazuki però anche Starlight Kid potrebbe fare bene e in effetti il primo lo perde sintomatico poi di chi potrebbe fare bene Shuri il primo lo vince perché ci sta però non è la Shuri che può andare davvero fino in fondo dal mio punto di vista non è neanche costruita lasciatemi parlare questo termine per essere tale in questo periodo quindi vado abbastanza col dire che è una vittoria che ci sta probabilmente per un bene maggiore Miki anche secondo me è più o meno così nel senso che ok la vittoria di Shuri va benissimo poi abbiamo visto che ormai non ha quell'intenzione di andare a vincere incontro i tornei cinture cioè fa il suo ha capito che in realtà è lì per cercare di elevare gli avversari quindi probabilmente questo incontro ha servito un po' per far sembrare una cosa e poi in realtà mettere nel gioco un'altra dei punti su Hazuki io invece punto su qualcuna delle due nuove stable cioè o qualcuno di Neo Genesis che appunto tra l'essere Starlet Kid o Azumi che vedo sotto mi penserebbe un sacco non so se riuscirà a vincere qualcosa ma io ci spero da anni e se no di 8 c'è un solo nome e non la vorrei come non la vorrei come vincitrice del torneo quindi vado con o Starlet Kid o Azumi è benissimo così a tal proposito Azumi Momo Watanabe e Saiya Kamitani e Risasera li mettono insieme per due ragioni Azumi parte che deve fare bene perché comunque le ha cambiato un po' tutto il mondo intorno mentre Momo Watanabe ha confermato quello che era e soprattutto Momo Watanabe il 30 o 31 di agosto non mi ricordo bene di preciso il giorno ha già un'altra cosa da fare cioè andare per il titolo di Mercedes Monet per il titolo di Strong quindi lasciamo perdere tutte le velleità di Momo di quest'anno di andare a vincere questo tipo di torneo Momo Watanabe che onestamente un po' mi preoccupa per il futuro nel senso che lei potrebbe anche decidere di andare via perché di base non ci hanno mai puntato così tanto mi disturba il fatto che non è che non ci puntano adesso su Momo Watanabe che non c'è più Rossi Ogawa ma anche quando c'era Rossi Ogawa nonostante le mie battute sulla predisposizione di Rossi Ogawa proprio per per Momo non c'è mai stato granché da un certo punto in poi cioè dal almeno dal 2019 2020 è sparita Momo Watanabe dai radar delle cose importanti sotto Saiya Kamitani che batte Risa Serra Risa Serra è lì come ospite per fare qualcosa ma non c'è alcuna vellità di vincere mentre attenzione a Saiya Kamitani perché Saiya Kamitani che ha cambiato schieramento e tutto quanto è quel nome che Miki non vuole che vada a vincere ma di cui abbiamo genuinamente paura Miki? Sì ho paura più che altro perché ok che ha cambiato Stable però non ha cambiato assolutamente niente della Saiya Kamitani cioè si veste di nero e mette bottiglia fuori la lingua fa le risatine che dovrebbero essere un po' malvagie proprio non la vedo al momento così in linea con quello che è con quella che è la Stable però sappiamo che è un nome su cui hanno sempre appuntato e potrebbe effettivamente andare abbastanza avanti all'interno del Playstar non mi piacerebbe come cosa però potrebbe succedere quindi la tengo lì come opzione dall'altra parte sì per Momo in realtà ci hanno già spoilerato che lei non potrà effettivamente fare niente all'interno di questo torneo perché ha comunque qualcosa da fare all'estero ci erano già poche possibilità per lei così si sono annullate completamente almeno ha dato i due punti ad Asumi che continua un po' questa faida comunque con Momo che va avanti da un po' anni ormai in un modo o nell'altro vediamo cosa cosa farà io sarei molto curioso di vedere la vincitrice di questo torneo perché effettivamente anche lei è una di quelle su cui non hanno mai puntato effettivamente tanto Asumi è sempre stata un po' chiusa nella bolla dell'high speed quando in realtà potrebbe fare molto bene anche fuori da quel movimento che lo ha dimostrato anche in alcune occasioni quindi magari l'hanno capito anche loro speriamo uno dei match più belli è sicuramente stato quello tra Maika e Natsupoi un match raro nel senso che hanno avuto sempre poche occasioni per lottare una contro l'altra essendo state tanto in stable e soprattutto in match in singolo è stato difficile perché Maika ha lavorato tanto in coppia poi anche Natsupoi ha lavorato tanto in coppia e quando Maika ha vinto la red belt Natsupoi è stata molto concentrata sulla white per cui in realtà c'è non dico la novità assoluta però comunque è difficile trovare una lista di match tra Maika e Natsupoi che si trovano molto bene sono ritornati in buoni rapporti e si sono ripromesse di incontrarsi nuovamente sul ring e noi saremo lì a guardare non ci saranno grossi problemi questo è stato un match molto buono forse il match della serata come da previsione questo main event con Maio Watani che batte Tam Nakano a poco più di un minuto dalla fine del tempo limite tirando fuori veramente entrambe un bellissimo match e secondo me facendo un pochino dimostrando quello che sarà il contrario poi alla fine di questo torneo con Tam Nakano che facilmente sarà importante dalla sua parte mentre invece Maio Watani probabilmente sarà metà classifica poi probabilmente mi sbaglio per il discorso del titolo e così via ma se non è metà classifica comunque si trova magari a pari merito con qualcuna che in realtà ha la battuta e quindi non può accedere alle fasi successive però onestamente Maio Watani con quella cintura in questo momento è in grado di fare grandissime cose ma è capace anche di fermarsi anche per costruire qualche rivalità plausibile per andare verso quella cintura che ancora porta e che al momento non sembra avere una possibilità di costruzione così approfondita e allora anziché andare casualmente si va con io ti ho battuta nel torneo lottiamo e vediamo di mettere in palio questa cintura Miki? Sì esatto è un po' la solita il solito modo in cui si creano le faide il torneo serve anche un po' per quello comunque già è un titolo complicato da gestire in un mondo di titoli abbastanza grande quello che è quello della stardom quindi probabilmente devi trovare qualcuna da mettere contro Maio Watani il torneo potrebbe essere interessante per quello vediamo te mi hai messo una pulsa nell'orecchio all'altro dicendo potrebbe essere l'ultimo five star di Maio Watani quindi mi hai fatto pensare che in realtà potrebbe andare effettivamente un po' avanti poi non lo so è uno di quelle che in realtà se vince o se perde a lei non cambia niente a noi non cambia niente perché in realtà tutti i match che fa li fa bene qua in realtà ha tirato fuori anche un po' il meccione con Tam Nakano giustamente anche per far vedere che le due che un anno fa più o meno avevano detto potevano essere due anni fa che potevano essere in realtà verso la fine della carriera non lo sono ancora almeno per quello che ci hanno dimostrato in questo match per Maika e Natsupoy in realtà è andato molto bene anche quello giusto che Natsupoy abbia perso comunque ha appena vinto il titolo quindi nel torneo si farà bene ma come capita spesso quando hai delle campionesse all'interno di un torneo non devono arrivare così avanti da poter minacciare la finale quindi qualche vittoria qualche pareggio qualcosa poi da per Natsupoy ma non mi immagino il torneo magari così importante anzi magari da qua tiri fuori un attimo la questione di Maika che l'ha battuta e poi si ripresenta magari a fine torneo a dire se vuoi ci sono per fare di nuovo un match Maika che intanto ha cambiato pettinatura e ha in realtà anche a Tyre e vediamo se questa cosa sono ancora in lutto non l'ha cambiata vediamo se questa cosa le porterà a fortuna o no nel torneo lo vedremo lo vedremo il giorno 2 invece se vogliamo agevolare la grafica è un giorno perché è un giorno in cui accadono poche cose estremamente rilevanti ma sicuramente quello che succede è l'ingresso nel torneo di Yune Mizumori che viene schiantata da Maika come era prevedibile Asuki batte Ruaka e Konami viene fermata da Manami ecco questo era per esempio uno di quei riferimenti che avevo fatto prima il fatto che ci sarà sicuramente qualcuno fermato da Manami prima ad avere questa roba qua Tomo Kainaba batte Momo Watanabe tra l'altro battendola con come ultima mossa un calcio nella schiena che praticamente è una mossa una trademark di Momo Watanabe quindi c'è anche la beffa Asumi e Mei Sera compagni di Stable finiscono in pareggio anche qua per tempo limite un altro match molto bello molto interessante mentre Maio Watanabe dice ben arrivata Sai Aida ecco un po' di botte e la picchia e vince anche questo uno scontro interno molto interessante soprattutto che Sai Aida ha venduto cara la pelle ma contro questa Maio Watanabe era impossibile vincere che cosa tiriamo fuori da qua tiriamo fuori che due dei nomi che sono arrivati sono due dei nomi che non possono fare niente e quindi siamo lì ad aspettare che effettivamente Yuna Mizumori mi vada a battere che ne so la la Konami di turno proprio per fermarla ma senza avere velleità di vincere niente Sai Aida anche lei dalla sua parte al massimo mi va a fermare qualcosina però da questo a questo punto direi che non c'è moltissimo da segnalare per questo per questo per questa giornata se non forse ti chiedo qualcosina su Tomo Kainaba e Momo Watanabe sì che probabilmente è stato anche il match più interessante più bello della serata e mette anche un po' il punto di chiusura su quello che è il five star di Momo comunque dopo due sconfitte non finita ma quasi per quanto riguarda il torneo mentre invece porta un po' più avanti Nainaba che comunque ha un pareggio ha una vittoria vediamo un po' come andranno le cose però sicuramente avevano anche due stili su alcune cose anche simili quindi hanno tirato fuori anche il match carino da vedere così come in realtà anche a Zoom e Maysera che hanno uno stile simile un modo di forse su Ring che ha comunque quell'imprinting da da Speed quindi anche lì ha funzionato continuano i pareggi di Maysera come stavamo dicendo prima va bene così per il resto sia una giamata molto tranquilla perché in realtà c'erano dei nomi che sapete già potevano battere le avversarie cioè Yuna Mitsumori Sayahida ma anche Ruaka non hanno effettivamente così tante possibilità Ruaka è un'altra di quelle che si potrebbe prendere qualche punto qua e là ma poco cioè non ha effettivamente l'idea di andare così avanti all'interno del torneo quindi molto molto semplice è uguale anche per il pareggio Asumi Maysera siamo sempre nel discorso loro hanno fatto un match stile high speed nel quarto d'ora hanno fatto vedere un sacco di cose ma sono in stable insieme alla fine fai in questo modo questo pareggio potrebbe essere ciò che aiuta Asumi ad andare un po' avanti o ciò che ferma Asumi dall'andare un po' avanti quindi ha lasciato un po' questo punto che potrebbe essere un punto o guadagnato con Maysera o perso con Maysera quindi il futuro ce lo dirà andiamo a vedere la classifica prima di chiudere ce l'hai a portata di mano? sì se si si la classifica che vede ovviamente divise in quattro gironi Blue Star A Blue Star B Red Star A Red Star B la vediamo velocemente Anna Jamie Yamazaki e Shuri comandano Blue Star A con due punti tutte le altre sono a zero con Koguma che deve ancora debuttare nel Blue Star Ranna Yagami e Saiya Kamitani sono prime con due punti seguono Susu e Anan con uno Saki Kashima Risa Sera e Tekla a zero punti con Tekla che ancora deve debuttare nel torneo nel Red Star A Maika e Asuki portano a casa punteggio pieno due match due vittorie Manami e Konami una vittoria una sconfitta Ruaka Natsupoi e Yuna Mizumori invece sconfitte tutte e tre nei loro match Ruaka addirittura due volte per quanto riguarda Red Star B Maio Watani punteggio pieno Tomo Kainaba e Asumi tre punti per averne vinto uno e pareggiato uno Meisera due punti per averne pareggiati due mentre invece Momo Watanabe Tamnakano e Sai Aida con un solo match anzi Momo Watanabe con due match all'attivo persi tutte e due Tamnakano e Sai Aida un solo match all'attivo perso questa è un po' la classifica la terremo aggiornata per quanto possibile noi cercheremo ovviamente di fare di tutto e di più per darvi maggiori contenuti nel tempo che abbiamo a disposizione non è escluso che riusciremo a fare uno massimo due altri lariatti prima di partire e poi dovremo fare il recuperone quando torniamo ma siamo pronti a tutto nel senso che comunque la nostra vita è stata calibrata in questo periodo per subire il wrestling cioè ce n'è talmente tanto che a un certo punto dobbiamo metterci lì sdraiati ad aspettare che il wrestling ci passi sopra volete sapere la verità non è ancora iniziato l'an one victory detto questo io penso che queste siano state le prime due giornate del five star come le abbiamo viste noi per cui così ve le abbiamo volute raccontare adesso vi saluto vi ringrazio saluto ovviamente tutti quelli che sono passati anche soltanto per dare un'occhiata per sapere cosa ne pensavamo delle lottatrici e di quello che hanno fatto nelle prime due giornate ovviamente ringraziamo tutti quelli che lasceranno un commento un like il mio primo ringraziamento va a micchi per aver partecipato aver portato le sue opinioni grazie a te è stato un piacere ragazzi ci sentiamo molto molto presto continuate a seguire e a supportare il wrestling il wrestling giapponese il wrestling giapponese femminile è molto importante facciamolo con tutto quello che abbiamo a disposizione quello che possiamo guardando osservando pagando i servizi streaming facendo tutto quello che serve per essere dei buoni clienti e per poter sperare in un futuro prospero della disciplina grazie veramente di cuore a tutti io sono Stefano una delle voci di Lariat noi ci sentiamo alla prossima grazie a tutti